Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Oggi faremo una sfida di velocità con tutti gli elementi della ritmica A 1 a 1 partiremo e faremo tutto il percorso A te e poi chi ci metterà di meno dice tu Ok, facciamo vedere il percorso con Noemi e Bea Spieghiamolo un po' velocemente, tanto dopo lo vedranno A pesce faremo 3 ravasciate in avanti E poi scendiamo in onda e faremo una tazza a spacca La cattolotta è dietro sagitale e a pesce E a pesce Poi arriveremo alla fine della striscia A faremo 5 salti 5 salti Come preferite incrociati o uno normale un incrociato Ok, almeno 3 Fino ad arrivare a questo cerchio qua E da lì dovrete portarlo con il piede Tipo Dalla riga blu Fino alla riga blu dopo Ok Poi prenderemo la palla per il rischio con il cenere sotto Ok No, poi qua dovete... Le spaccate destra, destra con la funeviola Ok, le 3 spaccate e poi toccare con la palla oltre la funeviola Appena toccherete si ferma il tempo Ok Vediamo chi ci metterà meno Chi parte? No, io no, io no Vai Brava Noemi Coraggiosa Fla, sei pronta con il cronometro? Decidi tu quando partire, lei fa partire il cronometro Via Via Ok, fune Uno Due Tre Ok Uno Due Tre Quattro Cinque A rifare Ogni volta che sbagliano hanno tre possibilità Ok Tieni la palla in mano Uno Due Tre Stop Brava Noemi Quanto ci ha messo? Un minuto Un minuto Dieci e novanta Brava Noemi Faticoso Ok Rimettete a posto il cerchio e la palla Rimettete a posto il cerchio e la palla Ok Anna quando vuoi Puoi partire Uno Uno Due Tre Ah riparte Uno Due Tre Uno Due Tre Quattro Cinque Per un pelo Arriva fino alla riga Vabbè va bene Stop Un minuto Un minuto Un secondo E 64 Per ora sta vincendo Anna Pronta Bea Ci sei Flo? Flo ci sei? Pronta Via Tutti per ora li abbiamo fatti avanti Aia Uno Pianino Concentrate Uno Due Tre Quattro Cinque Sì sì vai vai Ovviamente No Ok Un minuto Tre secondi E quattro Millesimi Ah no Sette millesimi Centesimi Ok Ultima Tutto a posto Tre Due Uno Via Incrociati Indietro Uno Due Tre Quattro Beh Uno Due Tre Quattro Cin Cinque Non ho visto Di partita Di partita dietro Arica blu Vai 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 Va bene vai 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 Perchè? Beh avevamo la fune la fune sbagliata però siete state brave Chi ha vinto quindi? Prima Anna, seconda Bea, terza Noemi, quarta Lusi Ok bravissime È stato faticoso? Sì Dai ne rifacciamo un altro pensate voi il percorso per la prossima volta Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Attivate la campanella Drin drin Lasciate un bell'aria Lasciate un like per il mio nome Ciao a tutti Ci rivediamo nel prossimo video Com'è la campanella? Drin drin